Ciao a tutti, io sono Elisa E io sono Dayana Ciao, sono Gabriele E sono un geni La nostra era, l'era degli geni La racconteremo con parole e fatte Geni for job Perché servono maggiori informazioni Per prendere 32 milioni E tu? Tu vorresti essere una di loro Ci sarà? Sì? Ok